Se dovessero dare la cautelare, la sospensiva, comunque sia, ci sarà un ricorso in mano che andrà avanti per anni, ci devono ricorrere da quel punto. Non ne fa tempo, conferiamo, poi primo grado, secondo grado, terzo grado, tra sei anni, quando avranno finito, mi diranno che abbiamo perso. Questa cosa dell'attualizzazione è molto proprio il momento perfetto, perché c'è stato proprio il boato. Perché prima ritiravamo mille tonnellate alla settimana, adesso noi ritiriamo mille e due al giorno. Perché adesso vengono a battercassa, ovviamente ci sono. Miga, devi dire che ti me ne aveva una domanda onesta. Per me è un po' più. Lì c'è tutta una catena che tu hai superato. Però non c'è una differenza alla fine, in quanto è un angolo ma chiama, e lo fermano lo stesso. Da qui in avanti possiamo fare tutto questo. E ci mi fanno, non la prendiamo sempre? Ma dove? Sì, prendiamo sempre. Ma non so, qualche cosa, ma che prendiamo sempre, voglio dire. Magari non cifre, se le cagliete, prendete una decina della catena, tu le cami, vengi all'arco della palla, capito? Che oggi, dicevo che ho fermato, che avevo proprio i giovani. e poi, grazie. Grazie a tutti